Ciao, sono Fabio Tredapalli, ho 35 anni e ho acquistato il corso di Social Media Manager di Bsupergenius.com a ottobre 2019, quindi poco dopo il suo lancio. Posso dire senza problemi che questo è il primo corso che realmente ti dà tutti gli strumenti per poter incominciare da subito ad avviare la tua attività legale, online, che ti porta ad avere rapporti anche con altre persone, quindi un'attività imprenditoriale al 100%, non una di quelle truffe che ti mettono in giro di solito dicendo guadagno online. No, quelle cose le ho già viste più di dieci anni fa e me ne sto alla larga, consiglio di farlo anche a voi. Cosa è successo dopo che ho acquistato il corso? Niente, ho iniziato a seguirlo e mi sono accorto che pian piano, giorno dopo giorno, lezione dopo lezione, tutti gli strumenti che mi servivano per incominciare a lavorare realmente sul campo erano a mia disposizione. Quindi da ottobre a gennaio ho studiato e ho provato ad applicare per me stesso i concetti. Una volta chiariti ho deciso di aprire una partita IVA, quindi regolarizzare la mia posizione fiscale, per far partire l'attività da Social Media Manager. Il mio primo cliente è arrivato molto rapidamente, ancora oggi stiamo lavorando assieme. Adesso nel tempo si sono susseguiti altri clienti, alcuni con cui ho collaborato per dei periodi, altri che sono diventati clienti stabili. Se posso dire la verità, ritengo che questo sia il primo vero corso che ho frequentato, che ti dia la possibilità di creare tutta la tua azienda, tutta la tua struttura aziendale da 0 a 100 in pochi mesi. Le competenze che ti vengono insegnate sono solo pratiche, non c'è molta teoria, o meglio la teoria c'è ma applicata alla pratica e ti rendono in grado di gestire perfettamente un colloquio con un ipotetico cliente, di rispondere alle sue domande e di fornire poi ovviamente in seguito il servizio che ti verrà richiesto. Voglio ringraziare Fabio e Matteo per l'ottimo lavoro svolto e che dire, se sei indeciso, Social Media Manager è un corso incredibile. Ciao! Grazie a tutti!